Occhi sulle carte ma anche sull'avversario, concentrazioni al massimo, nessuna parola tra i giocatori e un unico rumore di sottofondo dato dallo shuffle, ovvero il mescolamento delle fish. È lo scenario che da ieri domina il casino a municipale di Campione d'Italia, dove è in corso l'European Poker Tour, prestigiosa competizione promossa dalla sala online Poker Stars e sbarcata per la prima volta nell'enclave italiana, portando i migliori campioni di Texas Hold'em. Ieri la prima delle due giornate d'eliminazione che ha visto la partecipazione di 178 giocatori, di cui 107 qualificati al Day 2, tra loro anche l'italiano Luca Pagano. Ho anche avuto il piacere e l'impegno di dover giocare, che sacrificio, l'importante è passare al Day 2 e poi domani avremo la chance di forse arrivare al tavolo finale. Da domani si farà sul sedio in un crescendo di gare ed eliminazione che porteranno a un solo vincitore, in grado di conquistare la picca che Poker Star mette in palio per il numero uno all'interno di un monte premi globale attorno ai 4 milioni di euro. E mentre i giocatori, in arrivo da tutto il mondo, prendono confidenza con Tavolo e Fish, dal casino di Campione si traccia un primo bilancio. Lunedì sfondare per noi il tetto dei 2000 ingressi significa avere un casino estremamente vivace, estremamente frizzante, ma anche per il territorio un impatto positivo. Tornei di questo genere insomma rappresentano una boccata d'aria fresca per le case da gioco, anche dal punto di vista del target dei giocatori. Oggi il cliente del casino è mediamente un over 50, mentre invece il Poker viaggia nel segmento dai 20 ai 35 anni soprattutto. Gli avversari più tenibili sono sicuramente i giovani, i giovani che hanno forse quell'aggressività, quella voglia di emergere più degli altri e quindi magari sono quelli che ti possono mettere più in difficoltà. Il buon giocatore di Texas Hold'em, ma sono le stesse caratteristiche che si trovano nei giocatori di Poker, quello classico, è innanzitutto secondo me la disciplina. Un'altra qualità che il buon giocatore deve avere è una base matematica perché il Texas Hold'em è un gioco che si basa molto sui numeri, quindi deve avere delle capacità matematico e logiche e poi ovviamente anche capacità psicologiche, cioè saper leggere l'avversario, saper percepire le emozioni.